Soluzioni per recuperare i soldi necessari ad abolire l'IMU sulla prima casa. Il Codacons ha individuato la strada possibile per evitare il tracollo del governo e per abolire l'odiosa tassa sulla casa. L'Associazione dei consumatori infatti ricorda il governo che sarebbe sufficiente la revoca del decreto di erogazione di 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena per trovare le risorse necessarie per non far pagare agli italiani l'IMU sulla prima casa e salvare il governo. Per il Codacons sarebbe assurdo ed irresponsabile far cadere il governo sull'IMU considerato che così facendo la tassa stessa rientrerebbe dalla finestra e inoltre i consumatori si ritroverebbero anche l'aumento dell'IVA che determinerebbe un crollo ulteriore dei consumi e un peggioramento del rapporto debito-PIL. Quindi l'unica strada perseguibile è quella che dovrebbe portare il Presidente del Consiglio Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni a commissariare il Monte Paschi di Siena portando la banca sotto il controllo dello Stato e recuperando così 4 miliardi erogati. Il governo dovrebbe anche costituirsi parte civile nella causa intentata da Monte Paschi contro Numur e Dushbank chiedendo un maxirisarcimento danni. Il Codacons inoltre fa sapere che si possono trovare le risorse necessarie per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa anche in altri modi. Ad esempio, restando nel capitolo abitazione, è possibile innalzare l'aliquota base IMU sulle terze case oppure combattere l'evasione fiscale di chi acquista una seconda casa e la intesta a parenti per evadere il fisco e sfruttare le agevolazioni fiscali sulla prima casa risparmiando in tal modo su imposte di registro ipotecari e catastale. Basterebbe attribuire ai comuni il gettito di queste imposte recuperate per avere risultati isperati nella lotta all'evasione. Un controllo dei vigili, oltre che le bollette di luce e gas, sarebbe sufficiente per capire che la casa non è abitata tutto l'anno.